Una 54enne di origine nigeriana è stata denunciata dai carabinieri a Castelvolturno, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver dato fuoco per motivi passionali ad un ganese di 43 anni. La vittima è tuttora ricoverata in proniosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Pineta Grande Hospital di Castelvolturno. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna si è recata a casa del 43enne e, approfittando della circostanza che la porta d'ingresso fosse socchiusa, è andata in camera da letto dove l'uomo riposava, cosparso il pavimento e il corpo della vittima di liquido infiammabile ed ha appiccato il fuoco con un accendino. E' quindi fuggita, mentre il 43enne si svegliava urlando dal dolore per le fiamme. Una vicina del ganese ha udito le grida ed è intervenuta, prestando i primi soccorsi e chiamando il 118. I sanitari giunti sul posto hanno allertato i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo. La 54enne, nigeriana, residente a Cardito, è stata rintracciata poco dopo a casa dai militari dell'arma e denunciata per lesioni personali aggravate.